Ufficialmente è approvato il progetto per realizzare la nuova pista ciclabile che collegherà il centro di Corbetta e la ex Statale 11 con Vittuone, una nuova infrastruttura green che guarda al futuro capace non solo di intensificare i servizi per la mobilità dolce, ma anche di unire e ricucire quello strappo che da sempre la Statale 11, cioè la Via Novara, ha rappresentato per Corbetta e andando poi a unire Vittuone con Magenta e quindi con tutto il sistema di ciclabili del lungo Naviglio. Finalmente siamo giunti all'atto politico finale di un progetto che abbiamo a cuore, che cambierà, rivoluzionerà l'area intorno alla ex Statale 11 a Corbetta. La Giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutta la ex Statale 11 fino al confine con Vittuone. Ecco l'idea, la progettualità è quella di unire Magenta e Vittuone passando per Corbetta tutta da una pista ciclabile in modo che tutti i nostri cittadini, i nostri ragazzi, i nostri anziani possano andare a Vittuone, possano andare a Magenta, possono muoversi per tutta la ex Statale 11 in piena sicurezza. Questo è un progetto secondo me rivoluzionario perché cambia proprio la prospettiva di tutta l'area intorno alla ex Statale 11 perché fino ad oggi è stato considerato sempre come alcune case ai bordi di una provinciale, di una statale, domani sarà un'area urbana, sarà una città dove in mezzo passa una strada.